del nostro paese, una donna per la formazione del governo, Giorgia Meloni, quindi ne parleremo ovviamente nella nostra parte politica, Rampelli Beatrice Lorenzin e il direttore del Corriere della Sera. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Nina, Jessica, come avrete notato da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riservo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia della direttrice dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui per ora.